ah no se trovate ancora la mia faccia e il mio viso stanco non state tranquilli semplicemente perché è stata una settimana pesante è stata una settimana molto molto pesante e ci arrivi sfinito al derby ci arriviamo sfiniti noi tifosi più dei giocatori è paradossale ma in molti casi è proprio la realtà perché noi il cuore ce lo mettiamo sempre e a proposito di questo molti tifosi ho letto qualche commento nel derby parli di tattica non tattica ma nel derby si vince col cuore e sarà anche vero ma questa squadra allora dobbiamo essere anche coerenti questa squadra gli abbiamo ricriminato proprio questo specialmente con l'Eintracht dopo dove si non era un derby ma era una partita importante non c'era quella componente che chiamiamo cuore non c'era per nulla per cui io credo che al di là appunto delle motivazioni la squadra abbia giocato bene perché finalmente finalmente è stata messa bene anche in campo ragazzi è stata messa bene anche in campo non giriamoci attorno vecino dove era sempre libero la era sempre libero e forse ha preso alla sprovvista gattuso sicuramente è stata una mossa che non si aspettavano vogliamo ci dire è vero no siamo sinceri siamo sinceri perché poi si il cuore quello che vuoi ma non li vai a fare tre gol al milan che nell'ultimo tempo dietro nell'ultimo periodo dietro non prendeva gol nemmeno a morire nemmeno a morire e gli hai fatto tre gol al milan gli hai fatto tre gol e non solo tre gol ma hai creato anche qualche buona occasione al di là dei gol stessi ci arrivava in porta ci arrivava in porta e non eri neanche così prevedibile come 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 sempre perché poi noi per via centrali non ci passavamo mai invece ieri con vecino lì in mezzo nonostante le qualità del giocatore non siano eccelse ma ha fatto quel ruolo alla perfezione perché si variava da un lato dall'altro era sempre andava sempre a collegare i centrocampisti con con l'autaro e faceva faceva salire faceva da ponte io credo che veramente è stata un'arma determinante cuore garra tutto quello che vuoi ma lì si è vinto la partita e ci tengo a veramente a riconfermarlo e mi dispiace mi dispiace che le che poi le attenzioni si concentrano si concentrino sul rigore molti parlano del rigore del rigore il rigore il rigore i tifosi dell'inter arriva trema ponte che non ha giocato ha giocato ponte che non l'ho visto pum 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 anche perché i milanisti in effetti l'avevano un po troppo galvanizzato ponte ma chi chi non galvanizza un giocatore che appena tocca palla in aria te la butta dentro noi ne siamo la prova lampante con i canti amato e stra amato e adesso odiato per i suoi comportamenti ma i due giocatori io ve l'avevo già analizzato in passato sono simili sono veramente simile ponte che se non gli dai palla e se te lo marchi bene se ci metti uno screener ponte che ti fa poco nulla e in quel poco nulla comunque aveva trovato una spizzata di tacco che era favolosa favolosa perché in aria quelle zona sua quelle pane suo quelle terreno fertile per lui ragazzi miei bisogna essere sinceri però ripeto no non è una è un attaccante limitato come loicardi secondo me forte forte ma limitato ritornando ritornando al rigore non possiamo concentrare le nostre attenzioni su un episodio arbitrale noi interisti che dovremmo dire e col Cagliari Cigarini andava espulso e non l'hanno espulso e con la Fiorentina all'ultimo minuto ti hanno ti hanno levato due punti sono d'accordo sono d'accordo io questi rigori quello di politano sono d'accordo io non lo darei io non li do io non gli darei sti rigori dove c'è il minimo contatto e dai rigore non è anche perché poi gli attaccanti diventano furbi gli attaccanti diventano furbi lo cercano loro il contatto è stato così con petagna per quel che mi riguarda contro la roma è così con politano io sono cerco di essere credente di e dico che per me questi sono rigori da non fischiare però però e c'è un gran però agli altri li fischiano e allora li devono fischiare pure a noi per quel che mi riguarda e questo è il punto però al di là al di là del rigore dell'episodio al di là del fatto che hai vinto e ricordiamoci che noi abbiamo vinto abbiamo vinto ma potevamo anche pareggiarle siamo stati miracolati è vero che per 60 minuti ha giocato solo l'inter ha dominato ma poi questa squadra ha dimostrato troppe fragilità ma è anche giusto e non è che dall'oggi al domani cambi no alloggi al domani si è delle lacune le mostri e appena abbiamo subito il gol ci siamo un pochettino scomposti abbiamo avuto troppo timore e nei minuti finali due volte siamo stati miracolati su castiglieco su cutrone siamo stati bravi e fortunati quindi la partita poteva finire in parità fosse finita in parità io avrei fatto i complimenti ugualmente all'inter e li faccio anche all'altra squadra che si è battuta benissimo avrei fatti complimenti all'inter perché almeno ha dimostrato anima ha dimostrato ha dimostrato anche pericolosità cosa che non abbiamo visto in passato ha dimostrato pericolosità una squadra che comunque aveva un minimo un minimo di idea in campo un minimo di idea ed era preoccupante ed era allarmante quello che ho visto contro l'eintracht allarmante ma non solo contro l'eintracht anche in altre partite anche contro la spal che hai vinto mi viene mi viene l'esempio della spal hai vinto la spal che poi si è dimostrata comunque una squadra non proprio scarsissima visto che ha battuto la roma però anche con la spal fai fatica fatevi facevi fatica a trovare quel quel guizzo quella quella già hai trovato un grande gol di polità per cui mira serena e non poco la vittoria nella terra mira serena anche dal punto di vista del gioco mira serena e non poco speriamo che si continui su questa linea e che non si ritorni a questo 4 2 3 1 che poi sì il modulo si dice sempre che non c'entra però alcune volte alcune volte ragazzi miei è anche importante fatto stare questa è una vittoria favolosa mici mi mitica perché tu vinci due derby in un anno e seppur la stagione e a tratti a tratti fa alimentare adesso adesso ti riporta al terzo posto rimetti a posto la classifica e hai comunque un minimo di soddisfazione quella di aver vinto due derby che non conta dal punto di vista di dei traguardi degli obiettivi ma conta per per noi tifosi e va bene vi porterò anche qualche altro video oggi perché ci sono cose interessanti spalletti le provocazioni e l'incontro zanghi car quindi vi porterò dei video sfalsati sopportatemi sopportatemi ragazzi siamo tutti contenti oggi è una giornata di pace finalmente vi do eh vabbè qua in le notifiche vi do un abbraccio e niente vi saluto con l'abbraccio di reschio se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina facebook iscriviti al canale youtube e seguimi su instagram